Nuovo arrivo in casa Pistoia Basket, la società biancorossa infatti ha ingaggiato il playguardia Jake Odum, 28 anni, 1,93 per 82 kg. Odum, originario dell'Indiana, ha disputato la prima parte di questa stagione nelle fila del Prometheus Patrasso, squadra greca di Serie A, ancora in corsa per la Champions League. Uscito da Indiana State University nel 2014, sesto posto assoluto per numero di punti realizzati e secondo per assist, dopo aver partecipato sia alla Summer League di Orlando con Indiana che a quella di Las Vegas con Sacramento, Jake Odum si è trasferito nella penisola ellenica con il PAOK di Salonico, con il quale ha concluso il massimo campionato al terzo posto, raggiungendo anche la seconda fase di Euro Cup. Nella stagione 2015-2016 si è poi trasferito in Germania al Beirut, giocando da protagonista in Bundesliga, 14,3 punti, 5,7 assist e 4,3 rimbalzi di media partita. L'anno dopo, sempre nel campionato tedesco, ma con la casacca del Wussburg, Odum ha fatto ancora meglio, ottenendo medie significative, 15,3 punti, 5,7 assist e 3,5 rimbalzi in 33 gare. Nel luglio del 2017 è in Turchia con il Banvit, dove rimane pochi mesi, visto che a novembre è già in Russia con il Nizhny Novgorod, con il quale raggiunge i quarti di finale di Euro Cup, prima di essere sconfitto dalla Reier Venezia, che poi vinse la manifestazione. Il resto è storia di questi giorni. Jake Odum, sbrigate le pratiche burocratiche, sarà a Pistoia a partire dalla prossima settimana per mettersi a disposizione di Coach Ramaglia e del suo staff.